ciao silvia ciao matteo ben trovato come stai bene bene tutto bene visto la situazione direi alla grande senti allora domanda diritto se mi autorizzi a registrare per condividere la tua esperienza certo grazie mille partiamo con la prima domanda raccontaci il tuo percorso e dopo quello di serena partiamo con il mio allora sono un po di anni che sono molto attratta sia dal cervello in generale ma in particolare dal dall'apprendimento e da come ricordiamo e anche da come impariamo e ho seguito alcuni corsi ho letto dei libri tra cui vabbè parte le mappe mentali di toni busan e molto sono stata molto interessata da un corso su queste piattaforme online corsera non so se lo conosci c'era questo corso learning how to learn che in cui una insegnata una professoressa universitaria spiega come per tanti anni fosse convinta di non essere predisposta per la matematica e quando a un certo punto ha fatto un cambio di mentalità ha cambiato il suo atteggiamento si è iscritta a 26 anni a ingegneria e si è laureata e diventata professore universitario quindi sono rimasta molto affascinata da da come le tecniche l'atteggiamento mentale potessero influenzare finché diciamo quindi nelle mie ricerche nelle mie letture sono arrivata al tuo libro memoria prodigiosa che mi ha colpito per esempio negli esercizi fatti quando le liste di parole vedi in poco tempo la potenza delle tecniche e quindi mi sono appena visto c'era un corso memoria prodigiosa live ho partecipato e lì si è aperto diciamo il mondo il mondo che porti tu di appunto mappe mentali e tecniche di memoria e in quel periodo ero sotto concorso per cui avevo assolutamente bisogno di strategie di ottimizzazione dei tempi e di apprendimento rapido e ho visto la potenzialità delle tecniche e il passo successivo quindi dopo averla applicato su di me il passo successivo è stato quello di pensare il primo pensiero è stato a se l'avessi saputo prima ovviamente sebbene a scuola non ho mai avuto problemi e ovviamente ti rendi conto di quanto avresti potuto ottimizzare i tempi e di quanto avresti potuto ottimizzare anche le conoscenze cioè l'apprendimento vero e proprio e quindi ovviamente ho subito pensato di di trasmettere alle mie figlie queste queste tecniche e è venuto fuori che c'era il memo camp il memo kit camp e ho proposto a mia figlia la più grande che due anni fa aveva otto anni stava in terza elementare se voleva partecipare come dici tu sono assolutamente d'accordo il fatto che il bisogna proporre ai bambini non bisogna presentarglielo come un'imposizione perché altrimenti cade proprio tutto il significato del dell'esperienza e ho avuto diciamo ho trovato terreno fertile perché ovviamente essendo io la prima che le applicava lei veniva mia figlia veniva magari qui dove io studiavo vedeva le mappe vedeva questi disegnini insomma si è incuriosita vedendo l'esempio l'esempio mio e quindi ha subito ha subito accettato e esperienza molto positiva serena è tornata contenta e e io sono molto contenta per un diciamo un doppio motivo cioè mi sono chiesta e prima di mi sono chiesta cosa mi aspetto da da questa da questa esperienza e quello che volevo era da un lato che lei venisse a contatto con questi nuovi strumenti che conoscesse queste tecniche che che fino adesso ovviamente non aveva mai visto e dall'altro volevo anche trasmetterle alcuni messaggi che secondo me sono molto importanti ovvero che intanto che l'apprendimento non è per forza sofferenza non è per forza un qualcosa di di duro di faticoso può essere divertente questo è un messaggio che voi trasmettete che per me è fondamentale proprio perché l'atteggiamento mentale è la prima il primo passo e volevo che appunto capisse che abbiamo tanti modi di imparare che non esiste soltanto uno che ci sono più strumenti un po come mi ricordo c'era una frase di che avevo sentito da Bill Gates che diceva sei solo un martello ogni problema che affronti ti sembrerà un chiodo e ovviamente non è detto che il martello sia lo strumento per dire per avvitare una vite sicuramente non lo è e quindi darle mettere nella sua cassetta degli attrezzi più strumenti le permetterà ora ma soprattutto in futuro perché devo dire io ho fatto più che altro un investimento per il futuro perché adesso ora fa la quinta elementare non ha ancora questa necessità di organizzare tanto il tempo non ha questa mole di informazioni grande da imparare ma sta piano piano prendendo confidenza con nuove modalità quindi adesso ho messo come un capito capito quindi ora quando la verifica per dire ora se qualche mappa c'è la faccio vedere qualche cosa di questa oppure anche di matematica ecco lei per dire su su storia su storia e matematica soprattutto le usa sono mappe molto molto semplici essenziali benissimo fa le complimenti infatti infatti io sono contentissima perché non mi aspetto che lei ne veda adesso totalmente la potenzialità però ci entra in contatto capito sa che c'è anche questo e quando le servirà ovviamente avrà uno strumento in più e poi un'altra cosa che trovo importante appunto è il messaggio di non tutti apprendiamo nello stesso modo per cui se un se leggere e ripetere funziona benissimo per la mia compagna di banco e non per me vuol dire che io devo provare altro non vuol dire che io non vado bene e questo secondo me il messaggio fondamentale perché in tutta la fascia diciamo tu sì in tutto il periodo scolastico soprattutto è il periodo in cui i bambini costruiscono la propria autostima e un messaggio del tipo non vado bene ovviamente è un messaggio che può molto influenzare il futuro mentre capire che non va bene per me quella tecnica devo soltanto trovare quella che va bene e che consona al mio modo di pensare è molto molto importante mi viene in mente guarda quel libro un libro che ho letto di Francesco Riva un attore teatrale che racconta la propria storia la propria adolescenza da dislessico e il libro inizia con questa frase dice se un pesce viene valutato per la sua capacità di arrampicarsi su un albero e passerà tutta la vita pensando di essere stupido infatti il libro si intitola il pesce che scese dall'albero e lui racconta come abbia avuto difficoltà la frustrazione la delusione che vedeva negli occhi dei genitori finché ha incontrato dei docenti illuminati che hanno capito parliamo di tempi di anni fa in in cui la dislessia non era così conosciuta hanno capito le sue difficoltà e hanno trovato il modo per farlo esprimere per farlo apprendere ed è diventato un importante attore teatrale quindi trovo il messaggio assolutamente importante per il futuro delle mie bimbe ottimo se ti dovessi chiedere cambiamenti prima e dopo e dopo l'esperienza che cosa è cambiato nel modo di studiare di serena o il tempo impiegato quali sono le differenze impiega allo stesso tempo ne impiega di più ne impiega di meno ne impiega di più ma è più sicura allora e come tempi non non vedo grandi differenze per il semplice fatto che lei fa il tempo pieno a scuola quindi tendenzialmente diciamo a casa non ha tanti compiti quello che ho visto innanzitutto e usiamo usiamo dicusiamo perché poi mi coinvolgono spesso nel gioco tra virgolette e delle tecniche di memorizzazione delle filastrocche questo spesso ce l'ha da imparare filastrocche poesie per cui mentre prima appunto c'era questa cosa si metteva lì cominciava a dire lunga non me la ricorderò mai adesso è nato il gioco del diciamo dei logici cioroniani nel senso che giriamo per casa mettiamo in ogni punto una frase della poesia e invece di usare immagini come lo facciamo in piedi usiamo dei gesti per cui appunto facciamo queste tappe ed è molto divertente anche perché spesso tra di loro si aiutano quindi una dice la poesia l'altra fa i gesti poi viceversa e le impariamo tutti quanti e quindi questa trasformazione sì questo apprendimento la memorizzazione delle poesie è diventato un gioco e dove vogliono coinvolgermi ma proprio come con l'idea mamma giochi con noi capito e metto tutte e due perché pure la piccola entrata in questo in questo gioco della memorizzazione vedo che quanti anni ha dimmi scusa quanti anni ha allora la più piccola adesso ne ha otto e fai alla terza elementare infatti diciamo a luglio parteciperà anche lei lei ovviamente è ancora più motivata la memo kid camp è ancora più motivata perché vede me la grande la sorella grande che ora dieci anni che parliamo di mappe che e quindi vuole diciamo ancora più per imitazione mia ma soprattutto per imitazione della sorella maggiore e e quindi anche lei già usa questo modo per imparare filastrocche vedo che quando quando ha una verifica fa ricorso alla mappa così come quando ha un diciamo deve imparare delle delle adesso fanno sai del geometria le aree de delle figure piane e la usa e ancora ecco e spero che con il 2.0 di di memo camp riesca a lavorare su quello non non la usa sulla creatività cioè quando deve scrivere un testo l'è più facile perché l'è più consono proprio come formazione fare riassunti quindi per lei più facile deve avere una pagina storia studiare e ridurla mappa fa fatica a fare il processo contrario cioè usare la mappa per creare anche se poi nella scelta delle immagini per dire molto creativa e così come nel fanno delle associazioni incredibili bambini così come nel nella memorizzazione della poesia per cui vedo che appunto come come tempi ho detto più o meno stiamo lì fa ricorso quando ha necessità a far ricorso agli strumenti anche nella memorizzazione dei numeri ad esempio questo questo sì ti devo fare i complimenti perché è una cosa che cerchiamo sempre di trasferire è il fatto che il memo camp è un percorso familiare non è un corso che fanno i figli e tante volte vedevo genitori che arrivavano delegando completamente il metodo e l'apprendimento a noi e invece quello che diciamo è deve essere deve essere un linguaggio di tutta la famiglia e diciamo anche che chi partecipa dopo lo deve trasferire a fratellino a sorrellina e così via sì anche perché quello che io vedo è che ovviamente poi c'è il ritorno a scuola ed è anche un po' facile tornare nelle dinamiche conosciute per cui il fatto di riandare nel legge e ripeti il fatto di stimolarlo ogni tanto e voi anche in questo io vi ringrazio ufficialmente che a parte mettere proprio strumenti tipo il tutoring ma anche durante il lockdown avete dato chi aveva partecipato avete fatto degli incontri per ripassare le tecniche e poi anche qualche incontro con il memo call diciamo aiutarli a ritirare fuori questo strumento a ricordargli che ci sono questi strumenti che funzionano e secondo me è importante è appunto un percorso cioè non è che puoi pensare che il bambino va al memo camp e te lo ti ridanno la versione 2.0 con le app dell'apprendimento ovviamente no e è un percorso e piano piano secondo me capirà sempre di più la potenzialità e comunque è proprio l'impostazione capire che c'è un'alternativa che c'è un altro modo che si può fare in altro modo questo è importante e ovviamente ci vuole tempo uso e condivisione la condivisione è importante domanda delicata da mamma a mamma che ascolta che cosa ti sentiresti di suggerire a una mamma che ha difficoltà con i figli per farli studiare e vede il memo camp e dice ho trovato la soluzione e se desiderio di far fare il camp ai figli con incentivi premi se vai là dopo andiamo in vacanza non so no che cosa diresti? direi che allora innanzitutto capire che cos'è che non va nel senso che perché il bambino non vuole studiare quello che voglio dire che sono molto convinta del fatto che i bambini tendenzialmente abbiano come dire la voglia di imparare nascono con la curiosità ma nascono anche per dire tu spesso dici studiare per spiegare è una delle modalità principali per fare chiarezza nella tua testa per imparare i bambini se ci pensi già da piccolissimi appena imparano qualcosa te la vogliono spiegare sai mamma che le montagne prima funzionano te lo spiegano così come il fatto di approfondire cioè ci sono bambini che hanno una conoscenza dei dinosauri con nomi improbabili dai quelli piccoli dai questo è il t-rex lui faceva questo quindi il problema è che evidentemente nella scuola in qualche modo questa curiosità non viene alimentata e appunto c'era una frase pure che mi era piaciuta tantissimo che avevo letto una volta è un bambino non è un vaso da riempire è un fuoco da accendere bisogna capire come accenderlo e secondo me fargli vedere che cioè tirargli fuori il modo per lui più naturale di imparare quindi riaccendere questa curiosità è la chiave di tutto e quindi io suggerirei di innanzitutto di in prima persona vedere provare la potenzialità della tecnica perché se non ci credi tu per prima è difficile trasmettere il messaggio e poi appunto presentarlo come una possibilità un modo un fargli vedere che esiste una modalità piacevole di studiare quindi sicuramente ecco non è la soluzione non puoi pensare di mandare il figlio e avere il 2.0 quello che è è fargli vedere guarda prova c'è anche questo modo vedi se c'è qualcosa che ti aiuta che ti stimola ma devi ecco diciamo lavorerei anche molto su sia sulla comunicazione quindi capire qual è l'elemento che fa calare la curiosità che è così naturale nei bambini e fargli vedere come trasmettere il messaggio che può essere anche bello piacevole divertente imparare e quindi diciamo suggerirei un parlare con gente che c'è stata ovviamente anche questo condividere e magari anche condividere l'esperienza non so magari andare non so se può essere dell'esperienza tua se gli amici sono venuti al Memo Camp se può essere un fattore positivo o meno quello di condividere con un amichetto l'esperienza in tanti casi può aiutare quando qualcuno è timido e così via sapere che va lì e che comunque c'è un amichetto per tanti invece è l'occasione per conoscere nuovi amici sì quello per aprirsi anche alla relazione diciamo con altri sicuramente quindi ecco proprio diciamo l'atteggiamento mentale e capire cos'è che blocca che fa associare quel sentimento un sentimento negativo all'apprendimento questo è un punto importante secondo me grazie davvero allora ci tengo a ringraziarti a nome di tutte le persone che guarderanno questa questa registrazione perché in questo modo arriva l'esperienza diretta ci tenevamo che arrivasse l'esperienza di una mamma e non di un commerciale quindi certo grazie davvero è stato un piacere grazie a voi per la vostra missione ecco grazie andiamo avanti nonostante tutto è davvero una missione sì sì questo lo sento va bene grazie ciao 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 grazie a tutti grazie a tutti